Musica Porta il futuro dentro il tuo ristorante Un modello pieno di innovazione Un tablet su ogni tavolo Un'app fatta apposta per te Porta il futuro all'interno della tua cucina Stanco del solito menù cartaceo? E se invece ci fosse un menù interattivo? Potresti ordinare Potresti anche vedere la preparazione del tuo piatto Pensa, potresti sapere anche i valori nutrizionali Stanco di non sapere quanto dovrai aspettare per la tua portata E se lo sapessi in tempo reale nel tuo tablet? Ti piacerebbe decidere il tuo tavolo? C'è un'app che fa il caso tuo Cucina molecolare Piatti innovativi utilizzando reazioni chimiche Friggi con lo zucchero Congela con l'azoto È la scienza applicata in cucina Grazie alla sperimentazione Ogni piatto sarà perfetto Se vuoi fare entrare il futuro nel tuo ristorante Contattaci Baders Il futuro è qui Il futuro è qui Il futuro è il futuro è che E questo è il futuro è il futuro è che